stascia allora chi hai derubato? un ragazzo ah solo un ragazzo una ragazza e già stiamo a due che cosa gli hai preso? cellulare e che cos'altro? madre ah il classico sorda e telefono sai che succederà? che succederà? ti metto in galera marcirai qui dentro ho paura fai benissimo ad avere paura sai che succede alla gente qui? se ne va chi è? sempre la stessa storia ma non stai hai un figlio